Noi ci troviamo di fronte alla reazione di Israele al pogrom del 7 ottobre e la necessità di eliminare Hamas come nemico vitale dell'esistenza dello Stato, tanto gli Stati Uniti quanto i Paesi europei hanno formalmente riconosciuto il diritto di Israele di difendersi da questa minaccia esistenziale e certo è una sfida da un punto di vista militare molto difficile perché Israele fa la necessità di eliminare Hamas, la necessità di minimizzare al massimo le perdite dei civili, la necessità di salvare la vita agli ostaggi e anche la necessità di salvare la scommessa della pace con il mondo arabo che è il vero motivo per cui Hamas l'ha attaccata. Sono quattro urgenze diverse, possono apparire conflittuali ma sicuramente descrivono l'ora più difficile dello Stato di Israele.